Guardate un po', quello che ho è una raccolta preziosa, lo so, mi sembrerà che io sia uno che ha tutto ormai, che tesoro, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha, quanto me, se guardi intorno dirà, oh, che meraviglia è, ho le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare, voglio un, come si chiama? Io non metto, ma su, cosa mai ci sarà, imparerai tutto, già so, vorrei provare anche a ballare, e camminare su quei, come si chiamano? Chiedi. Corri le fine non si può far, vorrei di gambe per salvare, da, 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 spasso per la, Ma come si dice? Strana, verrei anch'io la gente che al sole sempre sta come vorrei essere qui, senza perché, in libertà. Che cos'è, potrei uscire fuori dall'alba, che tornerai per stare un po' stragata al cielo? Che cos'è, potrei uscire fuori dall'alba, che tornerai per stare un po' stragata al cielo? Che cos'è, potrei uscire fuori dall'alba, che tornerai per stare un po' stragata al cielo? Che cos'è, potrei uscire fuori dall'alba, che tornerai per stare un po' straga al cielo? Vivere la...